Però io ho fatto un passo avanti e ieri sera ho scritto una lettera Ok Ho fatto una controproposta ad Alessandra Oddio E cioè, siccome lei stessa dice che questa coreografia è un compendio, no? In qualche modo di danza che riunisce diversi stili Penso che all'interno della scuola ci sia un'altra persona che ha delle caratteristiche per poter affrontare un guanto di questo tipo Sì E quella persona sei tu? Lo so È una coreografia che secondo me tu puoi fare benissimo